Benvenuti su Kiva International.com Oggi aggiornamento sulle destinazioni disponibili per gli stage 2019 Abbiamo infatti nuove destinazioni disponibili Non so se avete visto il video sullo stage all'estero, la guida completa Se non l'avete visto potete far riferimento a quelle informazioni Ma le destinazioni sono cambiate, anzi sono aumentate Infatti oggi vi spiego un pochino quali sono le nuove destinazioni Allora, per quanto riguarda le destinazioni per la lingua inglese Abbiamo in Inghilterra Brighton Rimane una delle nostre top destinazioni Una cittadina molto molto carina nel sud dell'Inghilterra Una cittadina universitaria, ha solo un'eretta da Londra Londra è un'altra delle nostre nuove destinazioni 2019 Quindi una città incredibile che offre tantissime cose, soprattutto per i giovani Un'altra destinazione molto interessante è Edimburgo in Scozia, la capitale E anche qui una destinazione interessante In quanto è possibile poi visitare una parte della Scozia magari durante il weekend Sempre rimanendo nel tema di lingua inglese Abbiamo anche Tublino in Irlanda E la Valletta a Malta Quindi per chi ama, diciamo, un posto caldo E vuole combinare uno stagio all'estero Un corso di lingua con, appunto, magari un ambiente di mare Allora Malta fa il caso suo Per le destinazioni di lingua spagnola invece abbiamo Alicante Una cittadina molto carina, circa due orette da Valencia Una città non troppo grande ma nemmeno troppo piccola Diciamo a misura d'uomo Una città sul mare, quindi bellissima e molto molto viva Soprattutto la sera Per le destinazioni francesi invece proponiamo Parigi Che dire di Parigi, ovviamente nulla perché dice tutto da sé Cannes e Nizza Due destinazioni anche queste sul mare Per invece chi volesse migliorare il proprio tedesco Offriamo come nuova destinazione l'Austria E in Austria abbiamo Vienna, la capitale Per qualsiasi dubbio o chiarimento Vi prego di inviarmi una mail Vi lascio qui in sovraimpressione la nostra mail scritta Per qualsiasi cosa potete contattarci E ovviamente potete ricevere la brochure gratuitamente Per fare la vostra valutazione Su che stage all'estero scegliere per quest'estate 2019 A presto! Per fare la vostra valutazione Per fare la vostra valutazione Per fare la vostra valutazione Grazie.